Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Stone, via Piano d'Arvine 15 a Tripanda. La Regione Campania ha convocato i rappresentanti di Industria Italiana Autobus, Leonardo Confindustria e il sindaco di Flumeri, di segretari nazionali di Cigelle, Cislo, Will, UGL, Films, Fismic e Wilm, per un confronto sull'infinita vertenza Industria Italiana Autobus. La lettera firma degli assessori alle attività produttive, Antonio Marchiello e al lavoro, Sonia Palmieri, arriva a distanza di due giorni dalle dichiarazioni del Presidente e la Quarta Commissione della Regione Campania Cascone, il quale a Grotta Minarda aveva annunciato l'impegno per la convocazione delle segreterie sindacali da parte della Regione, contestualmente richiesta di convocazione urgente al Mise. Tirata in balla in più occasioni di essere lontana rispetto all'avvertenza Industria Italiana Autobus, la Regione apre finalmente un confronto in vista dell'Assemblea dei Socii di IA fissata per il prossimo 11 dicembre. L'appuntamento a Palazzo Santa Lucia è stato fissato per il 4 dicembre alle 13.30. Per conoscenza sono stati informati il Ministro dello Sviluppo Economico di Maio e il Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.